Ciao ragazzi, per lo scherzo di un nuovo video, oggi siamo qui a reggere l'album di Vegas Jones che è il suo mix tape, non mi ricordo il nome Reggia, allora, io direi di partire subito con Vegas Jones, il mio dog, dog, da D-A-W-G che è quella dove ha campionato Dragon Ball la canzone di Dragon Ball Ragazzi, l'ascolto e provi di cosa ne penso Scusate per il ritardo a questo album, ma ho avuto un po' d'affare quando riesco, so che c'era questo album, però non sono riuscito ora che sono riuscito ve lo fa sicché, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso ci diremo un'ultima cosa da dire, un'ultima cosa prima di iniziare non sono un critico musicale, perché se mi piace, mi piace se non mi piace, non mi piace, ve lo dico sinceramente se non mi potete dire, no, no, quella va bene a me ragazzi non mi è piaciuta, se non è piaciuta vi dico che non mi è piaciuta, se mi è piaciuta se non mi è piaciuta, non è piaciuta, non trovi che commentare anzi, ditemi voi qual è la cosa che non sai preferire dell'album ora, il mio dog, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegans Jones, il mio dog, 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 vabbè, avete capito il mio dog, li do 7, 7 bellino il video, anche il video è bellino la base è bellissima e questo fondo di Dragon Ball ragazzi una delle sigle secondo me se la contendono con quella di Z tra le più belle sigle degli anime senza nessun dubbio tra le prime 5 ci sono loro due poi secondo me c'è quella di Nazuma Eleven ora andiamo con la seconda canzone Vegans Jones, Evoluzione l'ascolto e poi vedi cosa ne penso Vegans Jones, Evoluzione di Don Bell, 7 e mezzo mi è piaciuta ragazzi ora andiamo con Vegans Jones solo nel blocco l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegans Jones, solo nel blocco non mi è piaciuta molto di Don 6 non entra nella mia playlist mentre il mio dog e quell'altra entrano nella playlist, questa no ora andiamo con la traccia numero 4 bello, mi è piaciuta che è fatto così città Jones Mistakes qui i minuti qui la tracca qui il nome Vegans Jones Fragile featuring Jamie Tights l'ascolto e poi vedi cosa ne penso oggi siamo qui in un nuovo video ciao ragazzi avevo scritto oggi siamo qui per girare l'album di Erkomi ed Irama non sono i nomi, scusate lo cercherò dopo partiamo con la prima canzone Irama, Erkomi, Jay Shablo, Hollywood l'ascolto e poi vi dico l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Hollywood di Erkomi Erkomi, Irama e Jay Shablo li do 6 una bella tutto sommato una canzone che ci sta per iniziare l'album non è che mi è piaciuta particolarmente diciamo che è ascoltabile ora andiamo con la seconda canzone Irama, Erkomi, Erkomi e Kiji Yugi figlio unico da questa canzone mi aspetto tanto perché sono Irama mi piace, Erkomi mi piace Erkomi mi piace, Erkomi mi piace Erkomi mi piace, Erkomi mi piace Kiji Yugi è uno dei miei artisti mi piace tutti i miei artisti preferiti che ascolto c'erano tutti nella mia playlist l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mi aspetta una bomba Irama, Erkomi e Kiji Yugi Dernia, figlio unico gli do un altro 6 non è che mi è piaciuta più di tanto ma Kiji Yugi ha fatto non so come chiamano una strofa un pezzo della bellissimo ragazzi bellissimo il pezzo di Kiji Yugi io questo ragazzo per me spaccherai e diventare uno dei migliori debbi in Italia perché c'è un talento ragazzi la discussione è troppo forte ora andiamo con Irama, Erkomi, con gli stessi occhi l'ascolto proprio di cosa ne ho Irama, Erkomi, con gli stessi occhi terza canzone che do 6 è orecchiabile si ma non mi piace do la sufficienza perché do la sufficienza perché non è insufficiente la canzone comunque ora andiamo con Irama, Erkomi, Takashi e Ketra per il Recipito questa è dovrebbe essere tipo una specie di testiva l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Recipito di Irama, Erkomi, Takashi e Ketra li do tanto per cambiare un altro 6 orecchiabile anche questa non è il mio genere ma orecchiabile anche questa ora andiamo con Ida, Erkomi, Urlami addosso spero di sentire un po' che usavano prima Erkomi dai su guardate un bel rap trap l'ascolto e poi l'ascolto e poi vedi cosa ne penso Urlami addosso di Irama, Erkomi gli do 6 ovviamente tutto quest'album avrà 6 e il voto dell'album complessivo sarà 6 no farei scherzi 6 ora andiamo con spero ci sia una più bella o più brutta ora andiamo con Irama, Erkomi un'altra bugia l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Irama, Erkomi un'altra bugia finalmente un voto diverso mi è piaciuta gli do un bel 7 e mezzo ora andiamo con Irama, Erkomi petrolio l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Irama e Erkomi petrolio gli do un bel 7 mi è piaciuta mi è piaciuta ora andiamo con ora andiamo con Irama, Erkomi gravità l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Irama, Erkomi gravità gli do 5 non mi è piaciuta poi ragazzi ci tendeva a dire che è un mio premio personale non sono non un critico musicale né un nulla se a me la canzone piace dico che mi piace se a me la canzone non mi piace dico che non mi piace non ve la prendete anzi ditemi voi quale canzone mi piace più dell'album e quale meno andiamo con la terz'ultima canzone se non mi sbaglio Irama e Erkomi sulla pelle l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso secondo me gli do un 8 cosa penso dell'album l'album ragazzi ho dato quasi tutte 6 7 sufficienza sufficienza gli diamo un 6 e mezzo dai 6 e mezzo comunque questa è la migliore poi c'è stata Piove che quando piove che gli ho dato un bel 7 poi altri gli ho dato un 7 solo uno non mi è piaciuto che gli ho dato un 5 ragazzi direi che il video spero vi sia piaciuto io non so lo rifetto è un mio parere personale non sono un casino di musica se a me piace dico che mi piace se a me non piace mi dico che non mi piace ditemi qua sotto nei commenti qual è la vostra preferita fatemi una classifica no di più che ne so mettete 1 mettete 10 e mettete quella che vi è piaciuta di meno e poi la prima quella che vi è piaciuta di più noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao Vegas Jones featuring Gemini Ties fragili mi è piaciuta molto l'idombel 8 ora andiamo con Vegas Jones ultimo ballo featuring di sgaccia l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso ultimo ballo di di Vegas Jones featuring di sgaccia di dombel 7 e mezzo mi è piaciuta ragazzi ora andiamo con Vegas Jones Cry Me a River featuring il 3 l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Cry Me a River di Vegas Jones featuring il 3 gli do un bel 7 ora andiamo con Vegas Jones 500 500 bianca featuring slings l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegas Jones featuring slings 500 bianca non mi è piaciuta molto gli do 6 ora andiamo con la numero la traccia numero 8 Vegas Jones una chance una chance 20 40 e MV Killa l'ascolto e poi vi cosa ne penso una chance di Vegas Jones featuring 20 40 ed MV Killa non mi è piaciuta per nulla gli do un bel 5 ora andiamo ad ascoltare Vegas Jones come ieri featuring mostro l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegas Jones come ieri featuring mostro mi è piaciuta mi è piaciuta gli do un bel 7 ora andiamo ad ascoltarci l'undicesima traccia la terza ultima Vegas Jones curriculum featuring il 3 l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegas Jones curriculum featuring il 3 gli do un bel 7 anche questa e ora andiamo con la penultima canzone la la penultima traccia la track numero 12 traccia numero 12 Vegas Jones piccola stella l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Vegas Jones piccola stella la migliore dell'album secondo me gli diamo un bel 8 ora andiamo con l'ultima traccia che è Vegas Jones Chianti Classico l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso della cosa ne penso e il fare recap generale sull'album ci deve dire che non sono un critico musicale che se a me piace e a voi non piace a me può piacere questa come a voi non può piacere a me non è piaciuta non mi ricordo come si chiama e a voi poteva piacere tantissimo sicché detto questo vi dico l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso della canzone e dell'album Vegas Jones Chianti Classico gli do 6 allora ragazzi cosa ne penso dell'album ci sono canzoni che mi sono piaciute ci sono canzoni che non mi sono piaciute canzoni che per me sono diciamo indifferenti uno o due non mi sono piaciute una o due non mi sono piaciute io direi direi di dare all'album in generale un sette e mezzo se non merito un sette e mezzo ora come non sono un critico musicale a me mi è piaciuta questa può essere non piaciuta a me non mi è piaciuta a me non mi è piaciuta mi sembra non mi ricordo il nome e a voi può essere piaciuta perché non sono un critico musicale io è il mio parere personale spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo con un prossimo video ditemi qua sotto nei commenti se se a voi è piaciuto l'album qual è la vostra canzone preferita e qual è la vostra la canzone che non vi piace ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi ciao